Book 2 Otto Otto Le ore Le ore Scusi Scusi Che ora è? Per favore Che ore sono? Per favore Che ora è per favore? Che ore sono per favore? Grazie mille Grazie mille È l'una È l'una Sono le due Sono le due Sono le tre Sono le tre Sono le quattro Sono le quattro Sono le cinque Sono le cinque Sono le sei Sono le sei Sono le sette Sono le sette Sono le 8. Sono le 9. Sono le 10. Sono le 11. Sono le 12. È mezzogiorno. È mezzanotte. Sono le 12. È mezzogiorno. È mezzanotte. Un minuto a 60 secondi. Un minuto a 60 secondi. Un'ora a 60 minuti. Un giorno a 24 ore. Un giorno a 24 ore. Un giorno a 24 ore.